Con te sto parlando, sai? Involce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze non mi sembravo di gireci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi lì, squandi, te ne stai, rinchiuso e in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te. Cuscino e piangi, non lo sai, quant'altro male ti farà la solitudine. Nanay, 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 nanay. Marco nel mio diario è una fotografia, agli occhi di un bambino un poco timido, la stringo forte a cuore e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre sui consigli che monotonina, lui con il suo lavoro ti ha portato via, dice alto il tuo parere, non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. E chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai. A scuola non ne posso più, nei pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego, aspettami, amore mio, ma alluderti non so. La solitudine tra noi, questo silenzio dentro a me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine tra noi, questo silenzio dentro a me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due. non è possibile che non vorbe, non è possibile vivere la vita di noi di noi.